Bae Jung Ho è un attaccante classe 2003 coreano nato e cresciuto nel Daegeon ha fatto molto bene gli ultimi mondiali under 20 dove ha trascinato la sua nazionale fino alle semifinali Corea che non ha vinto il mondiale quindi Bae Jung Ho che dovrà fare il militare non è dispensato, non sarà dispensato dal servizio militare si parla già di Lu che è un attaccante di una struttura fisica vicina al metro e ottanta sta mettendo anche un profilo muscolare di alto livello si parla già di nuovo Son Jung Min, ovviamente un calciatore importantissimo per la storia della Corea Bae prova ad essere qualcosa di simile, è un attaccante che parte sia da destra che da sinistra ma gioca molto meglio a mio avviso da 10 vicino alla porta deve essere vicino alla porta per il suo dribbling che è letale cambia posizione all'avversario, lo sbilancia con il corpo in un fazzoletto sono tantissimi giocatori che soffrono, che vanno col sedere a terra quando Bae cambia direzione, va a puntare, calcia sia col destro che col sinistro e poi riesce a dire la sua anche a contrasto, anche nei duelli, anche nel gioco aereo quindi è un giocatore da tenere sicuramente sott'occhio per quello che sarà un futuro profilo europeo per altri consigli, per altri video di questo genere, seguitemi su Instagram Grazie a tutti